Gentili telespettatori, buona giornata, la segna stampa di oggi mercoledì 21 febbraio 2024. Il Corriere della Sera, Navalny, Mosca, spieghi, appello della madre del dissidente, dateci la salva, un prigioniero politico muore in Bielorussia, Roma convoca l'ambasciatura e Putin da voi mi sento a casa, bufera su Salvini che dice che a Mosca decidono medici e giudici su quello che è successo a Navalny, ricordatevi che Salvini qualche tempo fa rideva di quest'uomo e l'Europa ha risposto a Salvini dicendo ma quale giudici, è chiaro quello che è successo e poi vedete l'ultima lettera dal carcere, Sergei, qui leggo, Chekhov e poi vediamo e 40 il commissario per l'ex Ilva l'addio a Mittal e poi russo-americana in cella cercava fondi per Kiev. Gli Stati Uniti, i nostri cittadini, lascino il paese. La Lega non fa sconti sul terzo mandato e gli alleati verso la conta. E poi vediamo mio papà Roberto Baggio e lo sbarco su Instagram. il racconto, la figlia, c'erano troppi profili falsi così l'ho convinto. Non mi sembra proprio un'notizione da mettere al centro della prima pagina del Corriere della Sera però. Adesso andiamo a vedere la Repubblica che titola oggi Salvini la voce di Mosca, il caso Navalny. Bufera sulle parole del leader leghista, capisco la moglie ma la chiarezza spetta i giudici ai medici. Governo diviso, gelo dell'Unione Europea, calenda, mozione di sfiducia verso Matteo. Salvini, Putin fa propaganda con una studentessa italiana, mi siete vicini, da voi mi sento a casa. La Premier imbarazzata si smarca, nuove sanzioni e missione a Kiev. Beh, diciamo che la Meloni sa perfettamente i trascorsi di Salvini e quindi diciamo che ogni tanto viene a galla la vera natura del leader leghista. Regeni è un processo dovuto a tutti noi, la prima udienza dopo otto anni e poi vediamo adesso le mani di Meloni nel risico dei servizi segreti. Le mani di Meloni, il capo del governo certo che mette le mani, però sono giornali, i fiancheggiatori della sinistra. Andiamo a vedere la stampa. Il pizzino di Putin all'Italia, lo Zara risponde alle domande di una studentessa milanese. Siamo sempre stati vicini, da voi mi sento a casa. Navalni, bufera su Salvini, chiarezza la fanno i giudici. Lollobrigida italiani, regime responsabile. Ecco, anche Lollobrigida l'ha capito. Va bene, andiamo avanti. Salis dal carcere, mi trattano meglio, il pressing mediatico è stato importante. più che il pressing mediatico, cara maestra, è stata la Meloni, altro che il pressing mediatico. Ecco, un po' tipo Zacchi l'ingrato, mai dire le cose come stanno. Zacchi liberato dalla Meloni, la Salis, condizioni migliorate, e sarà liberato grazie alla Meloni. Ma questo tipo di persone, piuttosto che ammettere la realtà, vi racconterebbero la storia di Babbo Natale. E poi vediamo l'appello della madre di Alexei, al capo del Cremlino, rivolgo il corpo di mio figlio. E poi vediamo da Savoini alla Far Raid, i legami russi della Lega. L'analisi, il capitano garantista solo con l'amico Vlad. E poi l'intervista a Renzi, anche Meloni la pensava come Matteo. E poi la stretta su Caivano moltiplica i bebi carcerati. Cutro nessuna protezione ai superstiti del naufragio. Adesso andiamo a vedere Libero Quotidiano, che titola l'incredibile sentenza via libera ai taxi del mare. Il Tribunale di Brindisi vieta al governo di bloccare in porto le ONG, pregiudicato il diritto di esercitare l'attività di soccorso. Ci toccherà anche rimborsare le associazioni fermate. E poi vediamo Julian Assange, non è il Navalny dell'Occidente, è come a zoppare un paese, gli sgonfia Italia, i sindacati vogliono le 35 ore di lavoro. Quanti figli di Putin a sinistra criticano la Lega, ma scordano le vecchie amicizie. Ma questo non c'entra proprio niente. Vediamo la grande illusione di arrestare lo smog. I verti chiedono più di vieti a Torino, Appendino e Fassino. Ah, processo. Il dibattito alla Camera, via la medaglia a Tito, c'è il primo. Sì. Adesso andiamo a vedere il giornale, che titola oggi Ipotesi, sanzioni per il caso Navalny, Putin prova ad avvelenare l'Italia, lo zar ci siete sempre stati vicini, da voi mi sento a casa, Tagliani richiama l'ambasciatore, nuova polemica su Salvini. Un'altra giudice boicotta il governo e salva le navi ONG. Sequestri illegittimi. E poi vediamo l'editoriale, i voti della Lega parlano chiaro, quindi l'editoriale di Alessandro Sallusti, che cerca di salvare Salvini, dicendo che, vabbè, il leader della Lega dice una cosa, però poi lui vota in un certo modo in Parlamento. Quindi vuol farci passare il concetto che Salvini fa propaganda, però poi quando deve decidere in Parlamento le sue decisioni sono diverse da quello che dice. Beh, non so se è proprio un complimento questo. E poi vediamo Autovelox, si cambia mai sotto i 50 all'ora un freno alle multe, le nuove norme del Ministero. Adesso andiamo a vedere il Fatto Quotidiano che titola Nella villa svizzera di Marella zero ricordi servitù part-time. E adesso Assange in America rischia la pena di morte, ultimo appello, oggi si chiude l'udienza all'Alta Corte di Londra. Parla la difesa, è assente, sta male, Corbyn sfila tra i manifestanti, il numero uno di Wikileaks al Fatto, battaglia di tutti per la libertà. Andiamo a vedere adesso la verità. Dieci malori, farmaco bloccato, ma sui vaccini AIFA non si muove, la farsa dei regolatori sotto Covid. Poi vediamo Facebook accusa l'Italia, cinque aziende spiano illegalmente i telefoni e Stellanti si studia l'alleanza con Volkswagen e Renault. È la fine dell'auto tricolore, voci su un Airbus delle quattro ruote, intresa tra giganti per reggere l'urto della concorrenza cinese. Allarme sulla produzione da noi. E poi, giudice sblocca il sequestro della nave dell'ONG, brindisi il provvedimento sulla Ocean Viking, smonta il decreto cutro. E poi vediamo incredibile Montanari contestato da sinistra. E il tempo, vediamo se oggi è disponibile, no. come sempre, è quello del giorno prima. È l'ultimo giornale ad arrivare, quindi non è disponibile, spiace, ma non lo possiamo mai leggere. E poi vediamo il sole 24 ore che titola Emergenza Smog in Lombardia. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.